Ennesimo scontro in Toscana sul tema dell'accoglienza dei migranti. Questa volta è ad Arezzo ed è nato tutto da un'interrogazione, tra l'altro dalle fila della maggioranza ed esattamente della Lega, in Consiglio Comunale. È stato il consigliere egiziano Andreani a sollevare la questione, la struttura che ospiterà 14 migranti. Si trova nel comune di Civitella in Val di Chiana ed è di proprietà della Fraternità dei Laici, azienda di servizi alla persona il cui CDA è nominato dal comune di Arezzo. Andreani richiama ad un accordo politico stipulato nel centro-destra retino secondo il quale questo tipo di servizio era stato escluso dallo Statuto della Fraternità. Mi risulta che la Fraternità dei Laici, in data 18 luglio, corrente anno, quindi passato questo mese, ha inviato una manifestazione di interesse per l'affidamento di 14 migranti nelle sue strutture. Pertanto si chiede al sindaco e al vice sindaco che ha dato l'input alla Fraternità per partecipare al bando di gestione dei migranti, anche perché chiaramente da sé non penso che abbia potuto partire, visto che c'era stata la scorsa legislatura una decisione che era stata presa a maggioranza dei consiglieri. Ricordo che naturalmente le forze politiche che la sostengono in questa legislatura sono le stesse che l'hanno sostenuta nella precedente legislatura. È vero che sono cambiati dei consiglieri comunali, ma le forze politiche sono le stesse. Dal comune però si conferma la disponibilità alla richiesta manifestata dal prefetto nella riunione dello scorso 19 luglio di trovare strutture per l'accoglienza. È uno strappo alla regola, nel senso che Fraternità dal 2015, su indicazione del sindaco Ginelli di allora e quindi di ora, è uscita dal circuito dell'accoglienza. Oggi è una situazione estremamente urgente e fa parte di una particolare condizione di emergenza umanitaria, quindi Fraternità non rientra nel sistema dell'accoglienza. L'accoglienza ci rientra in questo particolare momento in maniera molto circoscritta perché nel 2023, cioè ora, rispetto allo scorso anno, ci sono il 150% di sbarchi in più, 50.000 circa persone che sono sbarcate o stanno sbarcando nel nostro paese, 3.500 in Toscana, 350 nella provincia di Arezzo. Allora, di fronte a un prefetto che a sua volta ha ovviamente un input a livello nazionale che chiede un atto di responsabilità, quindi per noi una deroga rispetto a una regola, è chiaro che le istituzioni rispondono di sì. La posizione del consigliere egiziano Andreani è stata avallata anche dai vertici comunali e provinciali del partito. Sul tema migranti non si esclude che il prefetto possa convocare nuovamente nella prossima settimana un'altra riunione. È ovviamente necessario, questo sì, avere una rete di volontariato, di solidarietà, di partecipazione civica che riempia le ore di persone che, lo ricordiamo, sono persone libere, quindi anche possono essere inchiuse in delle stanze, in delle case, non fatti uscire, perché sono persone che probabilmente potrebbero anche avere un permesso allungato a causa di situazioni di guerra, di provenienza, cioè non è il migrante solo economico, ci sarà anche quello, ma ci saranno anche dei percorsi di protezione internazionale. Quindi la risposta è sono meno soldi? No, tecnicamente sono di più, perché stessa cifra meno servizi. Certo, si apre una domanda, si apre una questione di come accompagnare queste presenze, partendo dal presupposto, io questo lo condivido, che sono presenze finalizzate a un rimpatrio. Quindi la differenza rispetto anche a qualche anno fa, che era un'accoglienza senza fine, questa è un'accoglienza finalizzata a patti internazionali per bloccare gli arrivi e rimpatrio per quelli che non hanno diritto a stare nel nostro paese o nel resto d'Europa.